buongiorno a tutti ragazzi eccoci qui con questo nuovo video se nello scorso video vi ho parlato di sorare data a pagamento ora vediamo sorare base che è totalmente gratuito ma altrettanto utile vi ricordo ragazzi prima di iniziare di lasciare un pollicione in su e un iscriviti al canale perché mi date una grande grandissima mano per portarvi sempre più contenuti sempre più interessanti e aiutarvi il più possibile con sorare anche con la compravendita che stiamo per iniziare a rifare come l'anno scorso questa volta più dal vivo cosicché riuscite a farla insieme a me ma scopriamo tutto nei prossimi giorni ora appena apriamo sorare base abbiamo già delle informazioni molto utili sia i giocatori con aumento di prezzo e la percentuale sia il mercato con gli ultimi spostamenti sul quale possiamo cliccare sui giocatori per aprirli quindi ad esempio abbiamo preso tom rogich che è passato dal celtic al west rogich andiamo a vedere costa 0,0068 un centrocampista qua abbiamo i prezzi cosa molto utile come vi dicevo qui abbiamo i voti che voto ha preso in che partita non mi fa vedere quanti minuti ha giocato o quant'altro però già è una schermata molto utile infatti la uso insieme a sorare data però chi di voi non vuole pagare l'abbonamento soprattutto per magari i prezzi o quant'altro qui può visionarli tranquillamente ovviamente vi specifica se offerta singola, auction, buy offer eccetera 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 ma le funzioni più interessanti di questo sito sono altre due anzi altre tre innanzitutto vi fa vedere le nuove player card quindi in questo caso c'è la serie A perché l'anno scorso non c'erano tutte le carte su Sorare quindi adesso che le hanno aggiunte la maggior parte sono tutte nuove perché ad esempio Vignato ha solo questa carta e non ne ha altre quindi è nuova e risulta in questa schermata durante l'anno quando non escono carte nuove di campionati vi troverete piccole chicche che magari non vi siete accorti che sono uscite e le trovate in questa schermata e potete subito andare a comprarle mi è successo un paio di volte che aspettavo un giocatore quando è uscito non me ne sono accorto e l'ho trovato qui è stato subito, il prezzo era conveniente l'ho comprato fortunatamente e sono uscito a rivenderlo a molto molto in più qui altra schermata utile il top 5 dei giocatori come vediamo chi mi c'è prima come voti messi secondo nei martezzo, muktar quarto eccetera 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 qui ovviamente ragazzi su ogni giocatore che andrete a visionare tipo un player ranking di Sorare Data vi conviene aprirlo perché ovviamente Padelli si ok ha un super voto però non gioca ha un 100 contro la Salernitana del 22 maggio dopodiché 0 quindi è lì perché la media L15 ancora ci fa rientrare questo 100 ma non dovrebbe esserci detto questo ragazzi ora passiamo alle due schermate che uso di più di tutti il primo è il S05 simulator a cui voi potranno dire già mi faccio anche su Sorare Data questo è fatto meglio guardate prendiamo il top di ogni di ogni ruolo andiamo a mettere Kimmich capitano vi fa vedere innanzitutto quanto costa questa squadra ha una grafica più pulita di Sorare Data per come piace a me vi fa vedere molto pulito dove non hanno giocato insieme le squadre in più sul grafico sono puntini blu quando hanno giocato tutti puntini rossi quando non ha giocato qualcuno molto molto utile la uso tantissimo in più ve lo fa dividere anche per anno voglio vedere il 2021 quanti primi vincevo ovviamente lui non era coperto ragazzi quindi non conta eccetera 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 quindi questa schermata davvero davvero utile per chi gioca e poi sia che per chi gioca che per chi fa compravendita c'è come ho visto tools scouting tool c'è il tool dello scout dove vi fa vedere i migliori giocatori non più per player ranking tipo L15 eccetera ma diviso a stagioni ad esempio adesso sono ordinati vedete qua vi chiede al position 2022-2023 potete ordinare lo per L15 2022-2021 solo under 23 come vedete qui c'è un giocatore che è primo che è Cristiano Piccini che qualcuno di voi l'ha visto nel mio club perché? perché Cristiano Piccini è un giocatore che conosco molto molto bene l'ho seguito in varie squadre prima partita ha preso 89 ora questo grafico pure va studiato perché? perché Cristiano Piccini finora in questa stagione 2022-2023 ha giocato una partita l'ultima risale a marzo con i ranger dopodiché ha giocato adesso in serie B la prima partita ha segnato 89 quindi questo qua va anche studiato però potreste trovare dei giocatori molto interessanti ad esempio l'altro giorno un ragazzo mi ha chiesto un centrocambista low cost per solo una giornata io sono andato a vedere le statistiche ho consigliato low cost tolga cigerci ragazzi guardate qui lui non ne ha giocato solo una se andiamo ad aprirlo ci accorgiamo subito che non ne ha giocate tantissime perché ha cambiato squadra giocava nel nel Bakasheir e ora gioca nell'Ankaranguku scusa te la pronuncia ma non io di solito la chiamo Sporkulubu ma va bene così ha preso il 93 alla prima con due assist il 73 alla seconda con un assist quindi un giocatore che ha una predisposizione importante a fare assist in più i due assist sono 70 quindi ha preso anche 23 di all around qua 13 di all around è un giocatore che comunque fa degli all around importanti il prezzo dato come sta salendo dovesse fare un altro verdone questa carta subirebbe un'altra variazione di prezzo molto importante quindi detto questo da questa grafica trovate davvero dei colpacci perché potete ordinarla per 2022-2023 andare a vedere quante partite hanno fatto come vedete qua ci sono nomi molto noti Kimmich Wendel Mukhtar Neymar Messi Malcom eccetera ma se scendete un po' potreste trovare colui che non vi aspettate ad esempio se guardate solo i prezzi vedete che c'è Iago Aspaz a 0,06 ok è molto grande però per questa stagione se continuano a avere questi voti può essere importante oppure c'è Mudrik che però gioca solo le coppe perché l'Ucraina non è coperta oppure se scendete ancora sotto troverete dei buoni dei buon colpi come può essere esempio Tannane questo ad esempio l'altro giorno non c'era non l'ho visto andiamo subito a vederlo insieme io che faccio lo apro vedo che il prezzo è in salita qua è sceso un attimo poi vado a vedere il perché è sceso una carta vecchia carta nuova ok vado a vedere questa carta gioca nel NEC quindi NEC 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 ok fino al maggio giocava invece nel Gozepte che è il retrocesso in Turchia quindi da quando gioca nel NEC ha preso solo verdi scuri tranne alla prima però non ha giocato contro l'Erenven quindi andiamo a cercare perché contro l'Erenven non ha giocato se ha avuto un problema muscolare se la natura l'ha cacciato in tutte le altre ha fatto goal assist o comunque un allround molto importante vado a visionare questa carta il prezzo non è bassissimo è un attaccante però magari con questo prezzo e questi voti ci sono carte molto 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 più costose e questo qua potrebbe portare soddisfazioni ho preso questo come esempio perché non lo conoscevo ma ne possiamo anche vedere tanti altri è molto utile anche sulla serie B come vedete lì volant qui 0, quasi 0,1 un centrocampista ha una media importante se lo andiamo ad aprire scopriamo che ha un cento all'ultima con la doppietta assist goal assist goal goal cioè questa qua è una grande carta questa qua è una grande carta fa poco testo questa partita perché l'ho vista e il Mets ha avuto tre espulsi in pochissimo tempo però è una carta che comunque il goal l'assist lo ha molto molto facile in tutte le uscite tranne una partita quindi se ci serve un centrocampista importante per esempio all star serie B questo qua può essere una buona scelta e ragazzi così via ma li vado a studiare tutti Felix Platt lo conosciamo l'ho parlato anche in una live ad esempio qua c'è Edoardo a 0,169 che ha delle buone medie è stato infortunato andiamo a studiarci eccetera eccetera ragazzi questo è per farvi capire l'utilità di questo tool che è gratis poi affiancato a sorare data fa davvero la differenza ha parecchi filtri guardate qua se mettiamo ti fa vedere Sperzayan eccetera eccetera solo gli under 23 se dovete costruire un under 23 anche low cost da qui potete scoprire qualche giovane talento come questo Yamaha andiamo a vedere quante partite ha giocato perché costa così poco eccetera 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 potrebbe essere un colpo in ottica futura oppure semplicemente cliccate su my player vi fa accedere fare il login e vi fa vedere i vostri giocatori su quella schermata come stanno andando come si comporta lo scouting tool la media di quest'anno la media dell'anno scossa e tutte le altre cose davvero davvero super utile ragazzi e spero di esservi stato utile anche io con questa nozione che magari non tutti voi conoscevano detto questo ragazzi vi ringrazio come sempre vi chiedo gentilmente di cliccare su iscriviti o un pollicione in su così anche voi sarete utili a me e ci vediamo con il prossimo video ciao ciao ragazzi